venerdì 30 giugno 2017 dal vangelo secondo matteo capitolo 8 versetti da 1 a 4 quando gesù scese dal monte molta folla lo seguì ed ecco si avvicinò un lebroso si prostrò davanti a lui e disse signore se vuoi puoi purificarmi tese la mano e lo toccò dicendo lo voglio si purificato e subito la sua lebra fu guarita poi gesù gli disse guardati bene dal dirlo a qualcuno va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da mosè come testimonianza per loro cari amici il vangelo di oggi ci parla della guarigione di un lebroso compiuta da gesù sappiamo che la lebra è una malattia dalla quale oggi si può guarire con una adeguata cura farmacologica ma ai tempi di gesù no era una malattia contagiosa che devastava il corpo rendendo orribile la visione di un lebroso per impedire il contagio erano necessarie severe regole che imponevano al malato di lebra di vivere praticamente segregato dalla comunità in più c'era la credenza che la malattia fosse la conseguenza di un castigo divino per cui chi veniva colpito dalla lebra oltre che segregato era anche considerato un maledetto rari erano i casi di guarigione e dovevano essere accertati dai sacerdoti presso il tempio garanti delle norme della legge giudaica possiamo ben comprendere alla luce di questo quadro che ne illumina la condizione il gesto dirompente di gesù verso il lebroso infrange le norme della purità legale facendosi avvicinare e addirittura lo tocca propiziandone la guarigione gesù compie miracoli per confermare la nostra fede in lui solo la potenza di dio può guarire all'istante il lebroso che nel rispetto di tutte le norme gesù poi manda dai sacerdoti per la sua reintegrazione sociale la conclusione che dobbiamo trarre da questa pagina evangelica è un invito a specchiarci in quel lebroso lui era malato nel corpo ma c'è una lebra più insidiosa che ammorba e fa morire la nostra anima e questa lebra è il peccato credere di poter fare a meno del gesto salvifico e misericordioso di gesù che si chiina amorevolmente sulle nostre ferite spirituali per guarirle è un peccato molto più grande della lebra fisica un peccato di superbia e di autosufficienza che si allontana dalla resurrezione e dalla salvezza che il signore ci offre cari amici ho iniziato questa esperienza il 5 marzo di quest'anno 2017 e l'ho portata avanti con entusiasmo includendo anche i pellegrinaggi a mezzugorie ea fatima al mio canale youtube sono attualmente iscritte 98 persone il video più visto è stata la diretta dalla collina delle apparizioni di mezzugorie e i pobrdo con 473 visualizzazioni sono seguite poi le 405 dal krisevak le 392 e 321 dei due video da fatima i commenti al vangelo sono quasi sempre sopra le 100 visualizzazioni compunte fino a 297 per un totale di 103 video commenti al vangelo inseriti ora prendo una pausa necessaria per tirare un po il fiato vi ringrazio per la vostra costante attenzione e vi abbraccio invocando su ciascuno di voi la benedizione del signore che è padre figlio e spirito santo non un addio ma un arrivederci buona estate e buone vacanze da don carlo